Rieccomi. Vi siete divertiti un po'? Ah, mi ero spettato il microfono da sola. Adesso, niente, vi ringrazio per la vostra pazienza, vi ringrazio a tutti. Questi sono gli insegnanti, questi sono un po' più grossi di quelli di prima, questi sono un po' di bravo, erano un bravo anche quelli di prima. Un applauso a tutti. Applausi. Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ebenizer Scrooge non ebbe mai più nulla a che fare con gli spiriti ma visse sempre secondo la virtù e sempre si disse di lui che sapesse festeggiare degnamente il Natale e così si dica di ciascuno di noi Come augurò il piccolo Tim sia benedetto ciascuno di noi, siano benedetti tutti quanti Ci siamo, io ora ho un piccolo problema Voi distraetevi un attimo C'è anche uno con la visarmonica, fate finta di non mettere C'è anche uno con la visita 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 Grazie a tutti Grazie a tutti